salve a tutti i blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza sono qui nella mia cantina dopo che ho un mantello non lo so cosa rappresenta tra l'altro sembra è un misto tra una porta si sembra tipo una porta con un quadro dietro non so una cosa strana niente stavo per dire che ho preparato un po' di cose insomma ho messo il nome alla spada che tra l'altro non si può più potenziare più di così perché tipo è arrivata al suo costo massimo una roba strana ed esagerata buono ho un mantello che svolazza nel vento mentre andiamo e guardate sotto c'è il simbolo s non ci sto capendo nulla perché c'è una s di simone tra l'altro sotto o è un simbolo che sto facendo confusione no è una s ragazzi succedono cose strane ma eh si era in blaze ok sono connesso come era in blaze non so mi è venuto il dubbio che magari si era smicchiato qualcosa nei server di minecraft ed ero connesso con un account di altre persone cosa assurde no invece sono io ed ho un mantello che non ho mai visto e c'è una s sopra che cazzo sta succedendo ok ragazzi ho cercato su internet e ho letto quello che ho trovato e ho fatto ah ora capisco tutto furbacchioni cosa ha fatto la mojang per sponsorizzare l'altro suo gioco che si chiama scrolls e da qui la s che vedete eccola qui per sponsorizzare questo gioco ha messo a tutti gli account di minecraft a tutti questo mantello ovviamente a tutti gli account si intende minecraft premium perché se avete scaricato illegalmente il gioco non la troverete questa mantella fate girare un po' la voce se volete condividete il video e magari dite in giro che ci sono i mantelli su minecraft per soli due giorni quindi fate girare questa notizia in fretta perché abbiamo solo due giorni per goderceli e poi ci saranno levati quindi niente ragazzi risolto questo mistero misterioso che poi non è neanche sto gran mistero vi starete chiedendo nel frattempo io cosa sto facendo sto raggiungendo un punto che sia abbastanza lontano dalla mia base e anche dalla rotaia per cui pensavo di andare su queste montagne ci siamo quasi quindi da qualche parte in queste montagne sperdute cosa faremo in queste montagne andremo a costruire l'arena tra molte virgolette arena nella quale combatteremo il witter boss eccoci qua ecco tipo qua mi piace particolarmente guardate che bel panorama col tramonto molto bello è il posto ideale per uccidere mob non trovate? no non trovate ovviamente perché non ha senso quello che sto dicendo però noi in questo punto esatto ci mettiamo a scavare siamo ad un'altezza di 74 e andremo fino a quasi in fondo alla mappa quindi scaveremo tipo fino non lo so a 14 a 10 cose così e tra l'altro ho trovato una miniera cioè si può avere questo culo ultimamente sto avendo veramente un sacco di fortuna ho trovato una miniera così a caso già che ci siamo diamogli un'occhiata veloce vediamo a che altezza siamo altezza 26 e beh non siamo proprio all'altezza dei diamanti ma quasi eh poco ci manca quindi potrebbe valere la pena di dare un'occhiata tipo qua c'è una chest con redstone la posso prendere perché ce l'ho già qui pane meloni sì vabbè non è che siano necessari le torce me le riprendo perché me le voglio tenere con me comunque perché poi ci servono ovviamente magari vedo rapidamente se c'è qualche chest nei paraggi nel caso la svuotiamo insieme se no vado tranquillamente oltre no non è niente di che proprio niente di che ci vorrebbe troppo tempo per esplorarla in maniera più accurata quindi andiamo avanti e continuiamo a costruire oddio dove sto finendo c'è dell'acqua ok siamo a una profondità di 10 il che è una buona profondità iniziamo mettere una torcia e a scavare che cosa vado a fare adesso vado a creare un lungo corridoio che sarà alto 2 e largo un blocco solo sto facendo questo anche seguendo un consiglio che mi avete dato me l'ha dato più di di un iscritto questo consiglio ed è una cosa molto intelligente da fare perché immaginate che io alla fine di questo corridoio vado a spawnare il witter boss ragazzi diamante vedete che l'avevo che l'avevo chiamato l'avevo chiamato diamante l'abbiamo trovato sul serio però lo voglio anche raccogliere c'è tipo dei meloni me ne frega relativamente preferisco il diamante grazie minecraft grazie dunque dicevo immaginate che alla fine di questo corridoio faccio spawnare il witter boss e poi scappo all'interno di questo corridoio il witter boss ovviamente è molto più grande di due blocchi per uno quindi non riuscirà a seguirmi avrà bisogno di spaccare tutto e quindi sarà molto lento mentre io potrò battere ritirata e dalla distanza colpirlo con il nostro death dealer che tra l'altro ha infinità quindi infinità si dice si è infiniti e quindi basta una freccia sola per spararne di infinite e giocarcela così un po in modo sporco lo so che non sarà il più leale degli scontri qualcuno me l'ha detto combatti lealmente però ragazzi parliamoci sul serio a parte che ho sconfitto in passato the king e mobzilla cioè il witter boss dopo che è sconfitto dei boss così è fuffa non è assolutamente nulla e non essendo proprio un granché come boss fight preferisco renderla divertente divertirmi altro diamante oddio oddio il culo di oggi ragazzi altro diamante cioè ma vi rendete conto quando quando ti serve non lo trovi mai il diamante quando non te ne fai un cazzo ne trovi proprio così aghiosa e intanto abbiamo otto diamanti peccato che non ho il piccone con con fortuna se no ne prendevamo molti di più comunque dicevo non serve a niente combattere lealmente certo potrebbe anche farci fuori un po di volte non sto dicendo che lo battere ad occhi chiusi però comunque non è una sfida impossibile se ti prepari bene quindi preferisco farlo in modo divertente e pulito utilizzando vari stratagemmi quindi sto scavando veramente tanto e penso che ormai possa anche bastare però scaviamo giusto un altro po' giusto un pochino 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 arriviamo fino a qua ok mettiamo un'altra torcia e in questo punto iniziamo a creare la camera con la torcia che deve rimanere sulla parete iniziamo a creare la stanza dove spawnare il witter boss allora avevo detto magari di utilizzare l'ossidiana per contenerlo però come avete sottolineato voi l'ossidiana cioè come avete sottolineato anche voi intanto vedete che sto anche spuntando da qualche parte non va bene sta cosa non va bene che ci sia questa caverna perché potrebbe scappare eh che palle ragazzi eh che palle deve sempre essere più complicato dal previsto allora vediamo di chiudere un po' questa via di fuga perché abbiamo bisogno che il witter boss non scappi in superficie abbiamo bisogno che rimanga qua sotto e che ci corra incontro quindi che faccia il nostro gioco quindi dicevo eh avevo proposto anche di utilizzare l'ossidiana però come avete sottolineato il witter distrugge anche l'ossidiana e quindi non è un modo sicuro per contenerlo non c'è un modo reale per tenere fermo il witter però ragazzi l'ossidiana comunque resiste alle esplosioni molto meglio che la pietra e qualsiasi altro blocco per cui se lo volete contenere per poco tempo potete comunque fargli una gabbia di ossidiana e magari tenerlo fermo finché non la distrugge comunque è una soluzione temporanea ma può far comodo se per esempio lo volete uccidere con le incudini o perlomeno io feci così quando lo uccisi solamente a colpi di incudine bene ora il witter boss lo metteremo lo metteremo tipo in questo punto ok al centro di questa stanza qua sopra ci mettiamo a scavare un un buco che ci porta fino a fuori dalla montagna in alto costruiremo il meccanismo con un pistone per far cadere l'incudine e il meccanismo sarà in qualche modo collegato fino a qua sotto quindi dovrò trovare un circuito ma semplicemente basta mettere tante torce una sopra l'altra alternate nel senso alternando torcia blocco torcia blocco torcia blocco in modo da trasportare in verticale il segnale e farò in modo di avere tipo qua in giro una leva per attivare questo circuito che farà cadere da in alto l'incudine che colpirà il witter boss proprio qua sotto ora con molta pazienza inizio a scavare questo buco e purtroppo devo come devo salire mi tocca fare una cosa del genere sì ok dai ci siamo dunque il circuito lo faccio fuori dalla registrazione se no ci metto un bordello e ve lo spiego solo intanto più in qua scaviamo un altro spazio tipo questa altezza e qua dentro ci mettiamo gli iron golem in modo che allora il witter spawnerà si beccheranno il cudine in testa poi lo attireremo di qui quando arriva ad un certo punto ci saranno gli iron golem che lo attaccheranno quindi noi li mettiamo qua facciamo così e così mettiamo anche delle torce e li spawneremo in questo spazio no ops questo ho bisogno di tenerlo quindi fai così e li spawneremo qui ovviamente loro rimarranno intrappolati qui almeno finché il witter non arriverà a questo punto e quando arriverà a questo punto inizieranno anche loro a combattere poi più avanti ancora quindi facciamo tipo a questa altezza ci scaviamo un altro spazio no ma in realtà non serve neanche lo possiamo fare tranquillamente un po per volta mentre il witter si avvicinerà perché ovviamente due iron golem verranno sopraffatti facilmente dal witter quindi poi quando si avvicinerà noi man mano all'interno del tunnel gli lasceremo cadere una tnt per volta lui le farà esplodere da sole si farà da solo e si farà del danno ovviamente dobbiamo stare attenti a non farne esplodere una di troppo perché se ne facciamo esplodere una di troppo esploderà anche la nether star quindi in questo senso dobbiamo stare molto ma molto attenti a questo aggiungiamoci il fatto che io avrò pozioni di regenerazione saluti istantanee cazzate varie e niente per il resto ragazzi direi che più o meno questo sarà il funzionamento della boss fight ora finisco il circuito o meglio lo comincio perché non l'ho ancora cominciato e poi vi spiego anche come funziona dunque ragazzi a parte che non avevo neanche il materiale adatto con me comunque tralasciando questo un pistone è sufficiente per far funzionare il tutto ora immaginate che il blocco di sabbia sia l'incudine e quindi facciamo questa prova in questo momento il pistone blocca diciamo la caduta del blocco di sabbia nel buco che arriva alla stanza dove ci sarà il witter questa fila di redstone è collegata a un sistema di torce messe una sopra l'altra come potete vedere vedete c'è alternati un blocco di pietra a un blocco di torce ma che sto dicendo un blocco di pietra a una torcia in questo modo si può portare il segnale di redstone dal basso verso l'alto in un blocco di larghezza solo e quindi trasportare il segnale di redstone in verticale ora torniamo giù e vi faccio vedere come funziona ora molto semplicemente immaginate che in questo punto preciso ci sia il witter che magari si sta generando e quindi dobbiamo ovviamente trovare il tempismo giusto per rilasciare l'incudine noi quando sarà il momento giusto e quando ovviamente sarà lì fermo schiacceremo semplicemente schiacceremo useremo questa leva che cambierà il segnale del pistone e farà cadere l'incudine se arriva perché non sta arrivando nulla eccolo oddio che spavento vedete è caduto il blocco di sabbia è caduto sulla torcia e si è anche rotto ok molto semplicemente ci mette un bel po avete notato la caduta ci ci mette un bel po e anche il trasporto del segnale probabilmente quindi dobbiamo calcolare quello che sarà il momento esatto per rilasciare l'incudine e farla cadere esattamente sulla testa del witter io direi che tipo qua dietro chiudiamo tutto innanzitutto diciamo così perché tanto non ci serve tutto questo spazio quando poi sarà spawnato magari riempirò anche qui di pietrisco in modo da non farlo scappare almeno per un attimo da quella posizione e fargli cadere l'incudine in testa non so se funzionerà lo sapremo solo nella prossima puntata mentre per adesso io vi saluto nella prossima puntata torneremo a casa perché ci manca ancora qualcosa e ci manca la verga dei blaze vi ricordate la verga che ho trovato nella torre dei blazer della famiglia blaze è arrivato il momento di utilizzarla nella prossima puntata vedremo che cosa succederà utilizzandola per adesso vi invito a mettere un like a commentare se volete darmi qualche consiglio e a condividere per sostenere la serie un saluto da eren blaze ciao a tutti